Come vedete SCP-127 si è, diciamo, riparato da solo, dallo scorso episodio, e come vi ho detto, infatti si ripara da solo, è molto strano come SCP. Comunque, mentre camminavo in giro per trovare nuove celle degli SCP, ho visto proprio quella che ho contrassegnato con delle torce. Cioè, questa cella mi pare molto strana, perché appunto, se vedete, è proprio incastrata, ma proprio all'interno tantissimo di questo posto, di questa montagna. Infatti qua, vedete, è completamente, completamente interrata. È molto, molto inquietante come cosa e spero proprio di, insomma, che vada bene, che vada tutto bene. Adesso apriamo le porte ed entriamo. Porca miseria. Ok, ho dovuto sistemare un attimo l'audio, perché altrimenti non riuscivo. Ok, questo è l'SCP-682. Questo SCP è, lo conoscono tutti, il rettile difficile da distruggere. In pratica, questa creatura prova un grande odio per gli esseri umani, quindi sarà molto, molto difficile andare ad esplorarlo. Spero proprio che andrà tutto bene. Ecco, qua ci sono, per esempio, anche delle torrette. Questa è una cella molto particolare, perché non se ne vedono spesso in giro di queste celle. Infatti ci sono le torrette, sembrano comunque, no, qualcosa che devono difendere, no, la cella. È molto importante, ovviamente, la difesa. In effetti, quasi quasi sembra questo SCP, se ci fate caso. Forse mi sto facendo venire troppi pensieri. Ad ogni modo, comunque, andiamo a vedere un po' che cosa c'è qua in giro. Allora, presuppongo che da qua si entri, quindi vorrei evitare di entrare. Invece vorrei entrare qua dentro ed esplorare un attimo. Ok, perfetto. Questa è, diciamo, dove si può vedere, appunto, l'SCP. Questo è il posto dove l'SCP può essere visto in sicurezza, in tutta l'esicurezza, senza dover entrare per forza nella cella. Qua dentro, vabbè, non ci sono molte cose, a parte un emergency. Ora, dobbiamo entrare. Sarà molto pericoloso. Però, secondo me, qua, ecco, per esempio, adesso, vedete, non succede niente, i donisiani. Cioè, nel senso, per fortuna, il rettile è tutto quanto tranquillo, nella sua gabbia, perché, appunto, questo è fatto apposta per contenerlo. E sono riusciti a contenerlo. Sono stati bravissimi, questi, diciamo, della fondazione SCP, perché, appunto, hanno trovato un metodo molto importante. E, mi raccomando, teniamola a mente, perché, nel caso, si dovesse presentare questo SCP di nuovo, abbiamo un modo per poterlo, diciamo, contenere, ok? Infatti, queste persone dell'SCP riescono, appunto, a contenere questo rettile. Ad ogni modo, adesso, io volevo prendere, diciamo, dei blocchi, ma ho appena notato che non ne ho. Quindi, devo, dobbiamo aprire, per forza. Quindi, facciamo in questo modo, per cercare di rischiare il meno possibile. Spacchiamo qua, agli angoli, dove, in teoria, il ferro dovrebbe essere esatto. Esatto, vedete? Perfetto. E io direi di mettere anche, perché, vedete, così si può salire e scendere. Ok, perfetto, adesso abbiamo un accesso sicuro, nel senso, vabbè, un accesso abbastanza veloce a questa cella. E qua sopra, da qua sopra, secondo me, si riesce ad aprire, eccoci qua. Il tutto, che sarebbe la cella. Mi raccomando, voi, se avete un mondo, non fatelo assolutamente, perché potreste morire da un momento all'altro. Io, da quel che so, questo liquido fa male, perché questo liquido è corrosivo. Secondo me è la candeggina, da quel che... eccoci, eccoci, eccoci. Vedete, c'è praticamente il rettile qua dentro. E' molto pericoloso. Però, se noi non riusciamo ad accedere, è un po', diciamo, inutile. Perché, nel senso, riescono a contenerlo talmente tanto bene, che non c'è assolutamente bisogno nemmeno, quasi, di chiudere. Perché, vedete, tanto sta là sotto, eppure piccolo, perché stanno in questo liquido... Ehi, ho appena parlato, vero? Si sta... vedete che stava salendo? Cioè, è sembrato solo a me, oppure stava davvero salendo? Mmm, non ne ho idea. Comunque, dobbiamo stare attenti, eh, perché... Al minimo segnale, dobbiamo subito chiudere, perché non vogliamo fare un casino qua. Cioè, nel senso, è molto importante cercare di stare attenti. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo sarebbe vedere, insomma, come reagisce lui. Innanzitutto, però, prima di tutto, dobbiamo ricordarci, i duenisiani, assolutamente una cosa molto fondamentale, di stare attenti ad Inve. Voi sapete, no, che c'è questo hacker che mi perseguita. Dobbiamo stare attenti anche a lui, perché non si sa che cosa potrebbe succedere in questo mondo. Perché, con la sua presenza, potrebbe succedere sempre di tutto. E, veramente, spero proprio che non succeda niente. Spero che, almeno in questo episodio, non venga a farci visita. Però, sapete cosa posso fare? Potrei provare a colpirlo. Se si avvicina. Eccolo qua. Ok, 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 perfetto, l'ho colpito. Ora, se magari viene qua... No, non vuole, non vuole salire. Perfetto, allora niente. Mi sa che dovremmo spaccare, i duenisiani. Anche se è una cosa che detesto, perché assolutamente non si dovrebbe mai e poi mai fare. Cioè, è una cosa che, mi raccomando, voi non fatela assolutamente nei vostri mondi, perché potreste pentirvene assolutamente. Però, se l'SCP si sveglia, magari cos'è. Eccoci. Lo sapevo, lo sapevo. E, perfetto, abbiamo fatto una cavolata. Abbiamo fatto una cavolata, come al solito. Porca miseria. E ora come facciamo? Ma poi cos'è questa challenge, là? Non so. Mio Dio, cosa facciamo adesso, duenisiani? Porca miseria. Allora, mannaggia, non è possibile. Perché? Perché ovviamente, no, io devo aprire la cella. Perché i tizi dell'SCP, no? No, che hanno contenuto questo SCP. Non è che l'hanno messo in una vasca, no? Piena di acido. Diciamo, perché sono stupidi. No. L'hanno messa in una vasca. Mi sa che è qua, eh. L'hanno messa in una vasca proprio perché è l'unico modo per poterlo contenere. Mi sa che questo qua spacca tutto. Quindi ci rivediamo dopo. Ok, non so davvero come, caspito, ho fatto. Ma sono per fortuna riuscito a prendere tutte le cose. Tutti i miei oggetti. Ma, perfetto, è qua. Porca miseria. Io da qua, possiamo andare a vedere. Qua, le torrette stanno sparando a questo essere orribile. Guardatelo. È diventato enorme perché è riuscito a sfuggire. Vedete? Là dentro, lui riusciva, diciamo, era rimpicciolito per via di quel liquido. Cioè, vi rendete conto? Invece noi, ora che l'abbiamo liberato, può andare in giro liberamente. A meno che, diciamo, la cella non riesca a distruggerlo. Perché dovete sapere che questa cella ha questi metodi di protezione. Proprio perché questo rettile è estremamente potente ed è difficile anche da uccidere. Quindi, per forza, dovranno mettere tutti questi metodi di protezione. Però magari adesso, se arriviamo noi con l'SCP 127, che è veramente un SCP molto potente. Magari riusciamo a distruggerlo. Ecco, tipo... Attenzione, attenzione! Ok, ok. Vedete, vedete, vedete. È un pazzo. Cioè, oh mio Dio, guarda... Oh mio Dio. Oh mio Dio, no, 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 no. Oh, cos'è? No, 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 no. No, no. Cos'è stato questo rumore? Che cosa è stato questo rumore? No, porca miseria. No, no, no. No, no, no. Mi sa che c'è Inve. C'è Inve. Porca miseria. Io l'ho detto prima. L'ho detto. Dovemmo tenere d'occhio Inve. Dovemmo tenere d'occhio Inve. Ma adesso cosa facciamo? Che cosa facciamo? No, porca miseria. Ma muori tu che non sei niente in confronto ad Inve, porca miseria. Però veramente non muore. Cioè, è impossibile. Cerchiamo di... Oh, no, 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 no. Stiamo attenti, siamo attenti. Perché qua, prima di tutto, devo abbassare qua. Perché altrimenti non sentite niente giustamente. E poi dopo qua dobbiamo anche stare attenti ad entrare ed uscire. Perché non vorrei mai che succedesse una cosa strana. Ma cosa c'è che c'è qua, scusate? È come se ci fosse lui, tipo incastrato. Ma lui non c'è però. Eh. Questa è una cosa strana. Come mai lui non c'è? Sentite, entriamo dentro. E quel che succede, succede. Eccoci qua. Porca miseria. Dobbiamo tenerlo a distanza. Dobbiamo tenerlo a distanza. Vedete, sta rimpicciolendo. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Via, 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 scappiamo. No, oh, ei, 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 ei. Oh mio Dio. È qua, è qua, è qua, scusate, è qua. È qua, praticamente qua. Allora, avete capito che cos'è successo, praticamente? Uccidendolo, sparandolo, è successo che lui è diventato più piccolo. Quindi, praticamente, non è il liquido. Ho capito, non è il liquido. Ma è quando lui prende danno e diventa più piccolo. Ogni, diciamo, danno che prende. Porca miseria, ma allora come caspita faccio a fargli tanto danno? Perché questo qua fra poco cresce di nuovo. Oh, forse abbiamo fatto una cavolata. No, ok, perfetto. Mi sa che è di nuovo diventato grande. Vedetelo, è là. Vabbè, penso che comunque non possa succedere niente. Magari nel prossimo episodio vedremo di fare qualcosa per questo SCP qua. Cerchiamo di contenerlo meglio e di rimetterlo nella sua vasca. Ad ogni modo. Adesso usciamo da questo posto perché è veramente inquietante. Comunque, porca miseria. Adesso dobbiamo parlare di quell'SCP, di INV. Cioè, volevo dire non dell'SCP, ma dell'Hacker INV. Perché, cavolo, INV sta nel nostro mondo ora? Perché? Perché? Eh, porca miseria. Di nuovo, tutte le volte, tutte le volte capita così. Non è possibile. Io, io, allora, io ho detto che in questo episodio magari non succedeva niente. Perché non è che in tutti gli episodi che, diciamo, che faccio deve succedere qualcosa. Devo sentire quel rumore orribile, no? Che INV crea. È uno schifo totale proprio. Veramente, non voglio più sentirlo. Oh mio Dio. Ma, scusate, qua non c'era l'SCP. Scusatemi, forse mi sto confondendo io. Ah, ok, 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 ok. Era là, perché qua c'era la gabbie di SCP-127. Oh mio Dio, ho appena realizzato una cosa. Noi abbiamo appena perso SCP-127. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no. Questo è un male. Questo è un male. Oh mio Dio, io spero... No, vabbè. Com'è che facciamo ora senza... Perché avete visto quanto era potente quell'SCP? Anche dallo scorso episodio, porca miseria, no. Com'è che facciamo? Niente, allora dobbiamo per forza spaccare questo... Questa telekill. Magari nel prossimo episodio ce l'avremo direttamente. Io spero di sì. Comunque io per ora mi fermo qua. Chissà che cosa potrebbe fare INV. Chissà che cosa potrebbe fare quel rettile difficile a distruggere. se nel caso... Beh... Se nel caso uscisse dalla sua gabbia.